Un posto bellissimo, un pilastro di roccia stupendo, una scalata un po' passata di moda, però so che un giovane sia comunque molto stimolante a potersi confrontare con una via che 30 anni fa per gli scalatori del tempo rappresentava così una vera e propria sfida, un vero e proprio limite. L'Iena è uno dei primi otto vi d'Italia. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 6, 8, 9. 8, 9, 10. 8, 10. 9, 10. 10. 10. 11. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. She's alone all by herself Her body and car's a mess And nobody cares about the things she said Cut your losses and pack it in Just taking it for a spin Just lucky you didn't wind up dead